Questo territorio è un territorio baciato dalla fortuna, se vogliamo, per la concentrazione di marchi straordinari, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Ducati, sono veramente un concentrato che è unico in tutto il mondo per passione per le competizioni, passione per la tecnologia, passione per le emozioni, quindi certamente la Ducati sta all'interno di un territorio veramente molto prolifico da questo punto di vista. Entrare in azienda all'interno di questo territorio ha avuto la possibilità per me di fare moltissime esperienze mi ricordo in particolare l'esperienza di essere entrati nella MotoGP nel 2003, questa è stata una sfida molto importante, la Ducati era già regina della Superbike, che è un campionato per moto derivata dalla serie, ma la MotoGP era appena cominciata e era un campionato molto più difficile, più complicato, io mi ricordo quando sono volato a Suzuka per la prima gara, essere la prima gara comunque già in grado di salire sul podio, Loris Capirossi si è classificato terzo in quella gara, è stata una partenza veramente a razzo, come a razzo che andava la nostra moto, quindi direi un bellissimo ricordo.